Grazie a tutti. Ha visto la partecipazione di 5 regioni, 8 province e notevoli capi di bestiame provenuti da queste 5 regioni e 8 province. Come amministrazione comunale abbiamo fatto il possibile affinché la realizzazione avesse il massimo del suo sforzo e il massimo della sua base realizzativa in questa giornata conclusiva. Penso che ci siamo riusciti. Grazie a tutti.